Ci siamo, la vaccinazione anti-Covid è ormai una realtà a portata di mano. Entro venerdì 18 dicembre sarà infatti possibile da parte delle categorie che per prime potranno accedere alla vaccinazione e esprimere la propria adesione. La vaccinazione anti-Covid partirà il 15 di gennaio e per la prima fase sarà destinata agli operatori sanitari e sociosanitari ed alcuni soggetti più fragili come gli ospiti delle RSA. La vaccinazione non è obbligatoria ma è necessario conoscere in anticipo la volontà dei singoli destinatari per poter indirizzare alla regione il numero più preciso di dosi, essendo peraltro questo vaccino particolarmente delicato per il suo trasporto e la sua conservazione deve stare, come sappiamo, a meno 80 gradi. La quantità in arrivo in Toscana corrisponde al momento al numero totale di queste fasce di popolazione, quindi circa 130.000 dosi. La regione ha indicato con una mail a tutti gli operatori le modalità di accedere ad una piattaforma dedicata per raccogliere le adesioni volontarie inserendo i dati personali. I singoli soggetti potranno così esprimere il loro consenso e sottoporsi a questa prima fase vaccinale entro le 12 di venerdì 18 dicembre. Una dichiarazione non vincolante, coloro che eserciteranno l'opzione non saranno comunque obbligati all'obbligo di vaccinarsi se nelle prossime settimane dovessero cambiare idea.